Cerchiamo un po' di capire che cosa sta succedendo con Giuseppe Onufrio, direttore di Greenpeace, già stato peraltro nostro ospite. Fukushima è diventata ormai pericolosa tanto quanto lo è stata a Chernobyl? Ancora non si sa perché... Anche se non viene detto ufficialmente perché saremo sempre a livello di pericolosità a sé invece che a sé. Noi diciamo che a sé, anche se i calcoli che noi facciamo sono basati sulle stime dell'Istituto di Radioputazione Francese e dell'Istituto di Meteorologia Austriaco. Questi due istituti in maniera diversa hanno fatto un calcolo. In entrambi i casi, anche pigliando la stima più bassa, quella francese, siamo almeno il triplo del livello che ci vuole per definire questo un incidente di classe 7. Chernobyl ha emesso di più, ma ancora qui non è finita e quindi i conti si potranno fare solo alla fine. Solo alla fine. Ecco, però intanto che cosa si può fare per cercare di fronteggiare questa situazione? La difficoltà... Adesso abbiamo sentito che sono stati allontanati tutti i tecnici perché il livello di radiazione è troppo alto. Ecco, quello che è successo a Chernobyl è che migliaia di soldati sono stati impiegati, i cosiddetti liquidatori, sono stati impiegati per cominciare a buttare nel nocciolo fuso sabbia e cemento. Erano soldati che stavano lì per 30 secondi, per un minuto e poi andavano via. Qui le autorità giapponesi hanno evitato questo massacro perché effettivamente sono dosi di radiazione che poi provocano certamente dei danni molto alti. E non è chiaro, stanno cercando soltanto di raffreddare perché il rischio maggiore in questo momento è che i tre contenitori dei tre reattori esplodano. Allora l'inventario di radionuclidi che verrebbe emesso è molto più alto di quello che già è uscito. Di quello che già è uscito. Quali sono i rischi nell'immediato e nel futuro? I rischi principali sono la città di Tokyo. Noi dobbiamo ricordare a chi ci ascolta che anche se le radiazioni emesse saranno meno di quelle di Chernobyl, il danno sarà proporzionale a quante persone hanno preso quante dosi. Noi abbiamo delle punte da 800 a 1200 abitanti per chilometro quadrato, mentre in Bielorussia erano 40 abitanti per chilometro quadrato. Quindi questo significa che anche se il rischio scende con la distanza, contrariamente a quello che ci fanno capire Veronesi e gli altri, il rischio scende con la distanza. Lì però la quantità di persone è talmente alta che il danno alla fine potrebbe essere molto ampio.